Annalisa Scarrone Annalisa Scarrone, età, altezza, peso, carriera e vita privata Annalisa cantante, quanti anni ha, altezza, peso e carriera. Annalisa Scarrone è una cantautrice italiana. Nata a Savona il 5 agosto del 1985, ha 32 anni, è alta 167 cm e pesa 52 kg. Annalisa, chiamata anche Nali, è cresciuta con la sua famiglia a Carcare, in Val Bormida, e nel 2009 si è laureata in Fisica presso lUniversità degli Studi di Torino, con 96 su 110. Fin da quando è piccola e appassionata di musica. A 8 anni ha iniziato a suonare la chitarra e poi ha sperimentato altri strumenti, quali il pianoforte e il flauto traverso. La prima lezione di canto, però, l'ha presa a 14 anni. . Da quel momento in poi non ha più smesso. . Ha avuto due esperienze in due ben differenti, gliel'ha feguttata Eleanor, e poi ha iniziato a lavorare da solista. . La scarrone è diventata famosa grazie alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, si è classificata seconda nella categoria canto e ha vinto il premio della critica. . . La carriera di Annalisa. Nali ha partecipato al Festival di Sanremo per ben tre volte. . . Nel 2013 è arrivata nona con scintille, nel 2015 quarta grazie alla canzone Una finestra tra le stelle e nel 2016 undicesima con il brano Il diluvio universale. . Ha vinto diversi premi. . Tra i tanti ricordiamo un Wind Music Awards, un premio Lunizia, due premio Videoclip italiano, un premio Perla del Tirreno, due Velvet Awards e un premio Mia Martini. . . Inoltre, ha vinto la sesta edizione dell'International Song Contest, The Global Sound del 2013, quando ha cantato rappresentando il nostro paese. . La scarrone ha anche recitato al cinema, nella commedia Babbo Natale non viene da Nord. . La vita privata di Annalisa. . Annalisa è felicemente fidanzata con Davide, musicista, produttore e compositore musicale che lavora con lei. . . La aiutata nei brani Se avessi un cuore, inatteso, noi siamo un'isola, leggerissima e coltiverò l'amore. . . Inoltre, ha collaborato anche con Francesco Renga, gli Zero Assoluto, Marco Carta e Idergec. . La cantante è molto affezionata ai suoi animali, ha tre gatti, di cui uno tatuato sul collo, e due gatti. .